ciao a tutti quest'oggi proveremo circuit superstar è un giochino abbastanza semplice di macchine che ho voluto provare perché mi ricorda un cabinet un videogioco di quelli che c'erano in sala giochi quando io ero piccolo o nei bar c'era proprio nel bar sotto a casa mia e mi piaceva un sacco praticamente era fatto c'erano tre volanti da giocare in tre volevo cambiare auto aspetta no facciamo una scendiamone una che tiene un po la strada tipo questa ma se no mi ribalta ogni cinque minuti e brevemente c'erano questi tre volantini si può giocare in era difficile trovare giochi rispetto a fare in tre a quell'epoca la visuale era dall'alto e siccome andavano queste macchine erano proprio piccoline si può giocare anche da solo contro i vari varie auto vetture come date dal computer in questo giochino allora è abbastanza semplice sia solo acceleratore freno questo è il giro di qualificazione io sto già partendo male nel giro di qualificazione non c'è la collisione tra autovetture per fortuna oh si va bene sono classificato ultimo partirò probabilmente no Diego però lascialo l'acceleratore ogni tanto tipo in curva allora diciamo che secondo me una cosa che potevano aggiungere erano dei bonus un po come il super mario card per renderlo un po più vario invece no non c'è non ci sono troppo acceleratore freno non abbiamo nitro non abbiamo taglio dei bonus non taglio un cavolo questo è il giro di prova dai adesso c'è la gara vera e propria partirò per ultimo dovrò cercare di mollare un po' l'acceleratore ogni tanto dai non frega quello col camion poi c'entriamoci è vero che qua ci sono le correzioni vai sul rettilineo accelera ammetta sto cercando di frenare un tanto è tutto eh eh e va qui oh è data no mi recuperano se faccio queste cappate vai ecco ecco va là vai 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 accelera ecco la macchina comincia a far fumo perché faccio un po' di collisione lascia l'acceleratore in curva Diego non si può passare via tutto balordo mollami vai corri aia telefono un attimo anche il telefono nel momento meno adatto adesso ti richiamo logicamente non si usa il telefono in macchina specialmente se sta facendo una gara vai 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 almeno questa superiamola vai 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 vale ultimo giro ultimo giro non mi fregherai Ok, ok, ok a 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 va bene dai questo è circuit superstar giochino semplice semplice lo trovate su steam peccato per i bonus se ci fossero stati secondo me i bonus alla super mario kart tipo boost o mille da lasciare missili da lanciare insomma un po' una variazione così un arricchimento sarebbe stato molto più divertente però anche così va bene per qualche serata così con gli amici magari mettersi a fare una partitina non è non è malato cioè niente di che comunque ciao a tutti i ragazzi logicamente cosa vi devo dire iscrivetevi al canale se non lo fate andate a schiacciare ricci col culo ciao a tutti